Nel nord del territorio mexicano regna uno stato che non è solo il più grande per estensione, ma anche uno dei più ricchi di storia e cultura. Venire a Chihuahua è un'esperienza unica che lascia un segno nel cuore. Le grotte del Nombre de Dios sono uno impressionante recinto naturale creato milioni di anni fa, un passaggio sotterraneo con formazioni rocciose che custodiscono le leggende tra le sue estalattiti e stalagmiti scolpite dal passare del tempo. L'avventura attraversa il territorio del Chihuahua lungo le tracce del leggendario El Tren El Cepe rivela l'incredibile scenario montano mentre attraversa le barrancas del Cobre, un viaggio di prima classe attraverso la Sierra Tarahumara. E la destinazione finale è la città di Los Mochis, uno dei giogieli architettonici dello Stato e senza dubbio il centro culturale Quinta Gameros. La residenza conserva sale e arreddi eleganti che risplendono negli eventi culturali che ospita. Nel centro della sua capitale, la cattedrale metropolitana di Chihuahua spica con il suo stile barocco e le sue torri esvetanti che racchiudono una ricca storia di devozione che dura da centinaia di anni. Andando ancora più indietro nel tempo, il museo del sitio calabozzo di Hidalgo è unico nel suo genere, poiché è il luogo in cui Miguel Hidalgo fu tenuto prigioniero prima esecuzione. Forse uno degli edifici più importanti dello Stato è il palacio del governo di Chihuahua, che contiene magnifici murales che raccontano gli eventi che hanno segnato il destino di una nazione. La grandezza di Chihuahua risplende nella sua gente, sue storie e sue bellezze naturali. Lasciatevi affascinare dalla sua impareggiabile bellezza nel cuore del Messico settentrionale.